Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, notarai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra alla potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.